Salve a tutti, sto facendo questo video per invitare il comune di Fano a venire a pulire i parchi pubblici di Fenile. Questo è il campetto della chiesa di Fenile, Santi Pietro e Andrea. Come vedete la panchina è piena di erba, arriva quasi a 50 cm, l'altezza delle gambe. Stessa cosa per la piazzetta Piazzale 4 Ottobre, per poi arrivare al parchetto in via del mulino. Come vedete l'erba arriva all'altezza del tronco di quasi 60 cm, l'altezza del bidone. Qui, quando ci passano i cani, il pelo si riempie di erbacce selvatiche. Anche qui una panchina quasi inagibile. Erbaccia, gli punti più alti arriva anche a 60-70 cm.